Abbiamo Giovanni Fichera, uno dei più agguerriti atleti, perché siamo atleti, uno più vecchio ma che comunque dà l'esempio alla squadra di come deve essere anche lo sport, la competizione quella giusta, però quando poi si scherza, ritorniamo tutti amici, lui però mirava a quella di oggi. Un risultato intanto non è stato così, pazienza, ci abbiamo provato. Una bella esperienza, la tua squadra, i paesani però, però ne abbiamo portato a tre in finale. Certo, quindi un orgoglio della squadra a tre in finale e un ottimo risultato anche lui, quindi i paesani pare che in anteprima abbiamo fatto un buon risultato, un'esperienza bellissima, grazie a tutta l'organizzazione, speriamo che il prossimo anno sarà ancora super bene. Ci proveremo. Grazie.